Buon lunedì pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, ben trovati per una nuova edizione del telegiornale TG che parte con i titoli delle principali notizie di questa mattina. Ancora lavori del Consorzio di Bonifica sugli argini dei torrenti al confine fra Prato e Pistoia, intanto si è concluso quello sul Bagnolo, 180 mila euro. A breve sono previsti interventi di consolidamento su altri corsi d'acqua. Degrado e abbandono per l'area dei lavatori di Capostrada nella prima periferia nord di Pistoia. Residenti chiedono interventi urgenti. In un ambiente così piccolo dicono vedere questa trascuratezza non fa piacere. Primo trofeo della Lega Nazionale palacanestro in archivio a Livorno è andata in scena la Supercoppa vinta dalla Fortitudo Bologna per quanto riguarda la A2 e dal Rosetto degli Abruzzi per la B nazionale. Da sottolineare anche il primo successo stagionale degli arancioni della Pistoiese nel campionato di Serie D. Per chi non l'avesse visto la partita in diretta che vi abbiamo proposto come sempre, come tutte le trasferte ieri pomeriggio, basta attendere dopo il telegiornale perché ci sarà la differita la replica di questa partita. Comunque andiamo per ordine con la cronaca. Il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, si legge nella nota dell'ente, ha concluso lavori sul torrente Bagnolo in località Viaccia realizzati nell'ambito dell'accordo quadro per vari interventi di manutenzione ordinaria delle opere murarie dei corsi d'acqua Agna e Bagnolo nei comuni di Prato, Montemurlo e Montale che ovviamente è in provincia di Pistoia, intervento complessivo di circa 180 mila euro. Un lavoro lungo, si legge ancora nella nota del Consorzio, cominciato ad ottobre 2023, necessariamente sospeso dopo le piene di novembre, ripreso ad anno nuovo e continuato fino a poche settimane fa. Si è trattato di un lavoro complesso poiché il primo tratto di muro di 175 metri al ridosso di un gruppo di abitazioni poste tra il torrente e via di Montemurlo era davvero molto malandato, tale da dover essere smontato e totalmente ricostruito. I lavori di risistemazione del torrente Bagnolo, tuttavia, scrive ancora il Consorzio, non finiscono qui, ci sono altri interventi da fare. Questa mattina i vigili del fuoco di Pistoia hanno provveduto ad eseguire alcune verifiche ad una parete esterna della chiesa Pistoia di Sant'Ignazio di Loyola. Nella prima mattinata, infatti, dalla parete esterna che si affaccia su Via dei Rossi, sono distaccate alcune pietre cadendo a terra. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale e una squadra di vigili del fuoco che hanno chiuso la strada ed effettuato le necessarie verifiche. Avete sentito dai titoli, i residenti lamentano degrado e abbandono nella zona dei lavatoi, nella frazione di capostrada alle porte di Pistoia. In un ambiente così piccolo anche, vedere questa trascuratezza, questo senso d'abbandono proprio, non è che fa piacere. C'è amarezza nelle parole dei residenti della zona di Via dei Barbie a Capostrada, nella prima periferia nord di Pistoia, per le condizioni in cui da tempo versano due dei luoghi simbolo di questa zona. La scuola ormai chiusa dal 2019 per motivi di sicurezza e di lavatoi, un tempo centro della vita del quartiere, ed oggi divenuti, come ci hanno raccontato gli abitanti, terra di nessuno, anche per l'evidente stato di abbandono. Trascuratezza e degrado sono le parole pronunciate dalle tante persone che hanno voluto esprimere davanti alle telecamere di TVL il loro desiderio perché le cose cambino. Il tema però non è solo quello del degrado, al centro della preoccupazione della gente c'è innanzitutto la questione sicurezza, a cominciare dall'area della scuola. Non vengano chiusi i cancelli, risistemate le ringhiere che sono distrutte dall'ultimo taglio degli alberi perché praticamente sono crollate sopra la ringhiera, le ringhiere si sono aperte e è terra di tutti lì dentro ora. Gli lavatori sono per Capostrada quasi un monumento, il problema è che in questo momento sono nel degrado più completo. La gente d'estate ci vengono, tossici anche perché abbiamo avuto anche problemi di ambulanze, polizia. E qua ci sono anche molti bambini, insomma anche ragazzi molto giovani, ci giocavamo anche noi quando eravamo piccoli, però la situazione non era così. Quindi il problema è che qui c'è un po' più di insicurezza, cosa che Capostrada fino a qualche anno fa non era abituata. La questione sarà prossimamente portata poi sui banchi del Consiglio Comunale attraverso un'interpellanza dal consigliere del Partito Democratico Lorenzo Buonini. Scuola chiusa da diversi anni, non sappiamo cosa l'amministrazione realmente vuol fare di questo presidio, che indirizzo gli vuole dare. Ugualmente i lavatori che sono un presidio storico, socioculturale della nostra storia, delle nostre tradizioni e sono tralasciati a se stessi. Quindi l'amministrazione deve non tanto a me ma a tutti questi residenti di Capostrada delle risposte chiare e nette. Facciamo un po' di giri, iniziamo da Prato dove è stato inaugurato un nuovo ecocentro di Alia Multi Utility. A Prato si è inaugurato un nuovo ecocentro in via Paronese. Alia Multi Utility ha investito 1.500.000 euro per il servizio di raccolta di rifiuti differenziati. Questo diventerà il principale ecocentro non soltanto per la città di Prato ma per l'area ed è, come dire, eredita una storia importante perché l'ecocentro di Prato con le oltre 1.300 tonnellate raccolte ogni anno è probabilmente il primo ecocentro della Toscana per capacità attrattiva di rifiuti da raccolta differenziata. Quindi qui c'è una tradizione importante di tipo ambientale e a supporto del porta a porta che è presente in città e in parte dell'area perché questo ecocentro è aperto agli utenti Pratesi ma anche agli altri utenti di Alia con una modalità molto semplice di ingresso. Ci saranno degli operatori che 6 giorni su 7 per 12 ore dalle 7 alle 19 aiuteranno gli utenti a collocare correttamente i rifiuti nei contenitori che vedete alle nostre spalle e lo faranno attraverso una rampa che è questa su cui oggi siamo collocati perché questo consente più agevolmente per gli utenti di poter conferire i rifiuti e per noi gestire in maniera più efficace poi la logistica perché da qui poi dobbiamo mandarli agli impianti di riciclaggio e di recupero. L'intento è un po' quello di completare e anzi di spingersi su un servizio che è già ottimo perché io ricordo che noi abbiamo una differenziata che supera il 70%, siamo al 73% quindi con questo noi pensiamo che si contribuisca ancora di più a rispondere anche alle esigenze di quelle persone che ci chiedono anche luoghi dove possano continuare a smaltire in maniera differenziata anche in orari in cui magari non sono disponibili rispetto agli orari programmati. Da Prato ci spostiamo a Lucca dove una mostra su Marcello Mastranni ha aperto il Lucca Film Festival. La mostra Marcello, l'antidivo di successo, ha aperto la ventesima edizione del Lucca Film Festival che anche quest'anno vedrà protagoniste molte star internazionali come gli attori Ethan Hawke o Matthew Modin ma anche lo sceneggiatore e regista Paul Schrader e il regista Ruben Ostlund. L'esposizione a Palazzo Pfanner che rimarrà aperta fino al 24 ottobre è un omaggio ad uno degli attori italiani più famosi al mondo Marcello Mastroianni di cui quest'anno si celebra il centenario della nascita. Ospite speciale, la modella e attrice Chiara Mastroianni figlia di Marcello e dell'attrice Catherine De Nerve. Marcello Mastroianni è l'antidivo di successo un modo molto bello che abbiamo per celebrare un personaggio come Mastroianni che ha sempre avuto un legame particolare con Lucca come sappiamo la sua casa, il suo buon ritiro qui sulle colline dove veniva a riposarsi, nascondersi dai fotografi e nel centenario di Mastroianni per noi era doveroso aprire il Festival con una mostra dedicata a tutta la sua carriera con delle opere d'arte originali, inedite dei bozzetti che hanno ispirato ai grandi manifesti dei suoi film e ovviamente una madrina di eccezione come Chiara Mastroianni che viene con noi ad inaugurare questa mostra e la ventesima edizione del Lucca Film Festival. È una collezione che nel tempo, è 30 anni che ho questa passione poi mi sono avvicinato ai pittori di cinema ho scoperto un mondo e quindi ho la passione per il corredo pubblicitario perché i manifesti che erano l'unica forma di pubblicità del film chiaramente nascevano da un bozzetto cinematografico quindi da un dipinto prima che andasse in tipografia e qui nella mostra ho fatto la selezione sulla filmografia di Marcello Mastroianni andando diciamo ad esporre sia le locandine, i manifesti, le fotobuste quindi le pubblicità originali, qui non c'è una fotocopia ma sono tutti originali e oltretutto anche un bozzetto, quindi un dipinto che facevano questi maestri pittori che era proprio il loro lavoro, il cartellionismo è una passione a 360 gradi che prevede tanto impegno mi chiamano un po' l'archeologo perché tante ore, tanto lavoro sulla ricerca rispostiamo ancora verso Castelfiorentino stavolta per la presentazione della nuova stagione teatrale un cartellone ricco e variegato capace di intrecciare diversi generi con la massima attenzione alla qualità accompagnerà gli spettatori del Teatro del Popolo di Castelfiorentino lungo un percorso che prenderà il via a ottobre con il jazz e si concluderà a maggio oltre 40 appuntamenti illumineranno il palco tra prosa, musica, teatro civile, spettacoli per ragazzi e progetti intergenerazionali siamo convinti che anche questa stagione, questo cartellone con gli spettacoli che ospita sia all'altezza di quelli precedenti avendo spettacoli con una cifra artistica molto alta e quindi speriamo che ci sia un'ottima risposta Tre protagonisti della stagione 2024-2025 ci saranno grandi nomi dello spettacolo come Emilio Solfrizi, Enzo De Caro, Ambra Angiolini, Simone Cristicchi, Neri Marco Re, Flavio Insinna, Elio e Lella Costa L'organizzazione impeccabile è curata dalla Fondazione Teatro del Popolo in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino e Banca Cambiano 1884 Noi pensiamo che la cultura per essere davvero democratica debba essere accessibile quindi mettiamo in campo tutta una serie di iniziative che servono proprio a avvicinare la popolazione dentro il teatro e poi in altri periodi dell'anno a portare il teatro tra la popolazione La cosa che più ci fa piacere e ci riempie di orgoglio è che sì, dobbiamo e sosteniamo con grande forza la stagione teatrale ma devo dire che il premio più bello è che questo teatro oramai è diventato davvero il punto di incontro di tutte le esperienze culturali di Castelfiorentino e sta diventando la macchina come si dice per fare l'operatore culturale per eccellenza e coagula intorno a sé uomini, donne, risorse per fare questo lavoro Fondamentale il contributo della direttrice artistica Vania Pucci che con passione e competenza insieme alla Fondazione Toscana Spettacolo Ollus e Giallo Mare Minimal Teatro garantisce una proposta culturale di altissimo livello Tanti nomi e poi anche giovani attori che presentano degli spettacoli molto molto belli e spero che il pubblico sia incuriosito anche da questi in maniera tale che possa diventare un'abitudine e anche andare a vedere cose che non sono diciamo o troppo televisive o cinematografiche Ieri sera abbiamo accennato a un possibile nuovo arrivo in casa extra Pistoia Stiamo parlando di basket, oggi è stato confermato nel roster quindi del Pistoia Basket ci sarà il playmaker, anche il playmaker di nazionalità statunitense se mai Criston, 31 anni, 191 cm per 86 kg Criston indosserà la maglia numero 00, arriverà in città non appena saranno risolte le pratiche burocratiche per il rilascio del visto lo scorso anno il giocatore ranforza la Germani Brescia con la quale ha totalizzato 11 punti di media a partita in 26 minuti di utilizzo A proposito di palacanestro, nel weekend si sono disputate a Livorno, al Palamodigliani le finali di serie A2 e di binazionale di Supercoppa c'era anche la Fabo Arons Montecatini che però è stata sconfitta in semifinale allora vediamo che cosa è successo ieri nelle due finali Nel bellissimo impianto del Palamodigliani di Livorno sono le formazioni di Roseto e Fortitudo Bologna a vincere la Supercoppa primo trofeo per la LNP, Lega Nazionale Palacanestro la formazione abruzzese capitanata da Brian Sacchetti dopo aver nettamente superato in semifinale gli aeroni della Fabo Montecatini si sono ripetuti nella finale per la Supercoppa di serie B contro i padroni di casa della PL Livorno surclassando gli uomini di Federico Campanella per 84-53 con la superprestazione del lituano Aux Di Kalnis autore di 26 punti e vincitore del premio pistolero ed MVP della finale è sempre per campionato, no? oggi dobbiamo anche considerare che Livorno veniva da una partita finita alle 11 di sera non è facile, obiettivamente non è facile ci sono passato anch'io perdendo quindi so che significa però questa estate, da sabato, che si farà sul Serie quando c'è in palio un trofeo anche se è quello il primo della stagione è sempre bello portarlo a casa quindi siamo emozionati e contenti di aver raggiunto questo traguardo la finale per la Serie A2 ha visto invece imporsi la fortitudo Bologna che in semifinale aveva superato Forlì ai danni della Blue Mash or Zinovi che aveva condannato alla sconfitta la favorita Cantù di Brienza il punteggio finale recita 97-91 in una sfida decisa dalle triple e con Mian, autore di 29 punti miglior realizzatore ed MVP della gara ci eravamo guadagnati l'anno scorso la possibilità di giocarci questa Supercoppa e finalmente l'abbiamo vinta un po' di fortuna e bravura e soprattutto fortuna a portarla a casa ce la meritavamo quindi per annuncio di una grande stagione siamo carichi e l'abbiamo iniziata al piede giusto e come stai? io sempre meglio dai sto lavorando bene mi manca solo l'ultimo step che è entrare con la squadra quindi sono contento come sta andando sì, una grandissima vittoria è sempre bello alzare un trofeo soprattutto dopo aver perso le ultime due finali la scorsa stagione di Coppa Italia e per la promozione siamo contenti di partire col piede giusto sappiamo che è solo l'inizio però questo trofeo ci dà la carica giusta per continuare a lavorare bene Livorno eravamo certi che rispondesse al di là della presenza della PL ha dimostrato questa Supercoppa che ci sono un sacco di squadre competitive e quindi sarà un campionato vincente perché tutte quelle che abbiamo visto seppur in alcuni casi i risultati sono un univario importante è solo esito di una magari migliore preparazione in questo momento però tecnicamente sono tutte squadre che si trovano in battaglia quindi siamo soddisfatti perché questo primo assaggio dimostra il valore dei campionati Siamo andati un po' lunghi fra poco c'è la partita della Pistoiese contro il Progresso poi a C-Sport Magazine noi torniamo alle 19 grazie per averci seguito grazie a tutti